John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Finisce qua il sogno europeo del Milan Che dopo aver perso 0-2 in casa, perde 3-1 anche a Londra Non riesce nel miracolo e quindi saluta la competizione Allora, una cosa ce l'ho da dire Allora no, anzi voglio premettere prima una cosa Premettendo che il Milan quasi sicuramente meritava di uscire in generale Perché comunque, vabbè, anche, cioè Secondo me all'andata è uscire, è entrato in campo con la paura che non doveva assolutamente avere Al ritorno, insomma, per me oggi l'Arsenal, diciamo almeno nel senso tempo, sono stati abbastanza sovrastati Diciamo che facendo un computo dall'Arsenal avrebbe meritato di passare il turno e quindi il turno ha passato Però io oggi voglio lanciare una freccetina a tutti quelli disfattisti del VAR Anzi contro il VAR Che continuamente dicono, eh ma il VAR non va bene Quando hanno degli sfavori, per loro il VAR non va bene Parlo in generale, parlo soprattutto di seriali Sento sempre, questo VAR è un fallimento Finalmente davano il VAR Non lo leveranno mai il VAR, spero E soprattutto non vedo l'ora che venga messo anche in Champions League e in Europa League Oggi ragazzi, io non so Magari il Milan avrebbe perso 6-2 Però diciamo che sullo 0-1 tu dai quel calcio di rigore Cioè, tu non dai quel calcio di rigore All'Arsenal, inguardabile Indicibile, è un calcio di rigore inesistente Che nemmeno in terza categoria viene dato Non dai un calcio di rigore del genere La partita resta sullo 0-1 Magari il Milan fa 0-2 E l'Arsenal si impaurisce Cioè, capite bene che è un 6-6-6-6 E così non c'è da nessuna parte Però intanto il rigore inesistente gliel'hai dato Comunque niente, clamoroso ragazzi Welbeck, che noi La Roma a gennaio lo voleva mi pare Ma a gennaio o a giugno Io criticai la scelta perché dissi che Welbeck è un giocatore finito Infatti ragazzi non segnava in Europa Dal 2014 Rientra e fa due gol Una doppietta Chi se lo sarebbe mai aspettato Diciamo che il Milan secondo me Dove entrarci un pochino più cattivo E soprattutto all'andata Dispiace perché avrebbe potuto far veramente bene Io era questo che vi dicevo Quando vi dicevo che secondo me E lo vedrete tranquillamente dal Borussia Dortmund Non bisogna Soprattutto in Europa League Poi più che mai Non bisogna cercare e sperare di affrontare le forti Le forti si autodistruggono da soli in Europa League Se ci fate caso in finale Non arrivano mai quelle squadre Che magari scendono dalla Champions fortissime O quelle che hanno fatto il caso tipo lo United Vabbè lo United due anni fa ha vinto Però ci sono stati anni in cui lo United ha partecipato E si autodistruggiva pareggiando 1-1 in casa e 2-2 Anzi 2-2 in casa e 1-1 contro squadrette tipo il Gank Tipo il Ludo Goretz Le piccole Oggi si è eliminato il Borussia Si è autoeliminato da solo praticamente Ho perso 1-2 in casa Fa 0-0 Le grandi si autoeliminano contro squadre che sottovalutano L'Arsenal non poteva sottovalutare il Milan Perché il Milan sulla carta Per quanto riguarda la storia non si può sottovalutare Oggi per quanto per quello che vi dico io cerco sempre di dirvelo ragazzi Poi voi non mi credete mai anzi mi insultate Io alla fine mi prendo gli insulti e sto zitto Perché purtroppo il mondo del calcio è bello perché è vario E potete scegliere tranquillamente se essere tranquilli Oppure se insultare a caso Il mondo è bello perché vale il mondo del calcio Invece è un po' malato Allora Vi dico sempre Quando poi mi dite No che ne so magari la Roma viene eliminato Il Napoli viene eliminato Eh Fin quando non torneranno le milanesi No ragazzi Non è così Non ce l'abbiate con me Ve lo dico sempre Non è così Io ho detto spero che il Milan non prenda una forte Perché le forti si eliminano da sole In questo momento il Milan Si può chiamare Milan Si può chiamare pure Real Madrid Ma se non c'è una squadra che È pronta a vincere la competizione Perché è la più forte della competizione È meglio che affronti le piccole Se voi andate a vedere il mio sorteggio d'Europa League La mia reazione al sorteggio Tutti i milanisti che dicevano Eh vai Finalmente si torna a fare un match A 5 stelle Finalmente si torna ad affrontare una big d'Europa Non è così ragazzi Non è Magari vi farà piacere Averla riaffrontata Sarete contenti Perché finalmente avete affrontato una big d'Europa Però nel computo totale Andando a contare Andate e ritorno Avete perso 5 a 1 Sinceramente io avrei preferito Magari fossi stato il Milan Affrontare una squadra un pochino più scarsa Che magari mi avrebbe permesso Di passare il turno E magari giocarmi un quarto di finale Che in questo momento è oro Poi diciamo che al Milan Ho poco da Da recriminare Ha sbagliato Diciamo che c'ha tanti giovani E quindi Entrando in campo All'andata un pochino intimorita E lì ha sbagliato Perché per me la poteva giocare Sull'uno contro uno E faceva molto molto bene Invece è entrata un pochino A difendersi E impaurita Se avessi giocato a viso aperto Magari oggi staremo parlando Di un Milan Che non avrebbe dovuto Obbligatoriamente andare All'Emirates Stadium Per cercare La vittoria Di due reti di scarto Anche questo Vedendo questo Insormontabile Masso gigante Da sorpassare Il Milan forse ha tirato Un pochino indietro il piede Certo è ribadisco Che se non avessero dato Il rigore all'Arsenal Inesistente Impensabile Probabilmente staremo parlando Di altro Non lo so Questo non lo posso sapere Comunque era un gran miracolo Vincere 0 a 2 All'Emirates Per poi andare supplementario Vincere 0 a 3 O vincere 1 a 3 Era un bel miracolo Però ragazzi In questo modo Non si è potuto nemmeno fare Fatemi sapere come stai Con un commento qui Tutte cose ne pensate Va avanti solo la Lazio In Europa League In Champions Vanno avanti Juventus E Roma Quindi portiamo i quarti di finale Fra Champions E Europa League Tre squadri italiane Non è andata bene Anzi Perché insomma Avevamo il Napoli Avevamo l'Atalanta Avevamo il Milan Avevamo la Lazio E diciamo che il Milan Lo accetto Che è uscito con l'Asena L'Atalanta l'accetto Che è uscito con il Borussia Forse dal Napoli Mi sarei aspettato qualcosa di più La Lazio Complimenti È andata avanti E quindi si giocherà I quarti di finale Fatemi sapere come stai Con un commento qui Dove cosa ne pensate Iscriviti al canale Ragazzi mi raccomando Iscriviti 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 Perché stiamo Quasi per arrivare A 200.000 iscritti Buonasera Alla linea Come sempre Ci vediamo Un prossimo video